Il primo Chardonnay St. Valentin nasce nel lontano 1986, oggi ho in mano uno Chardonnay St. Valentin 2018, i vigneti che mi regalano questo vino sono situati nelle miglior zone di Appiano, su terreni calcari e in parte anche morenici. Il vino viene fermentato e affinato per circa un anno nel piccolo legno e poi fa un ulteriore affinamento per altri otto mesi in serbatoio. Il vino si presenta con un colore giallo-paglierino con riflessi verdognoli, con un bel profumo che ricorda la frutta matura e questo, chiamiamolo anche bacio, del legno con dei riflessi leggermente affumicati e in più un corpo con una grandissima mineralità lunghezza. Grazie. 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 Grazie.